...parte Ile Cross in una zona dove lì sono scopiati! Un'avventura che non mira, ma giù le cuore in questa città, una storia magica, non va ancora, non va ancora. Un secolo di passione, un secolo di emozioni. Un solo colore, un rin nel cuore, nel cuore, nel cuore. La domenica si riempie il fiola, e la squadra si carica e gola. Un secondo ogni attimo siamo con voi, con respiro che si ferma in gola. Noi non si arrendiamo.